Allora qui in questa boscaglia il primo ritrovamento un anello di ferro non lo so nel senso non è una catena ma potrebbe essere qualcosa ma vabbè roba un po vecchio. Ho trovato questa moneta che ho provato a pulirla ma ancora non riesco a decifrarla e comunque dai quando sono a casa guardo e vi farò sapere però qui c'è ancora un segnale vedete adesso provo a vedere cosa c'è. Fariamo un'altra moneta Voglio farvi vedere una cosa che il nostro Tresor Master Pro mi ha dato un segnale abbastanza forte ho scavato una buchetta abbastanza fonda continuano a sentire suonare il pin point e non capiscono non trovo niente guardate qua è incredibile non so se potete vedere ecco questo affarino suona come un matto ecco pensate un po voi e qua da quello che mi immaginavo invece lasciavo una forchetta cucchiaio e invece è un cortellino un vecchio cortellino ecco si può vedere qui che ha una vite un perno e qua le lame va bene dai ancora dieci minuti poi si torna a casa qua abbiamo trovato questa faccetta in alluminio penso in banda lì c'è scritto qualcosa ma i numeri lì io ci abbiamo la conclusione qui abbiamo trovato un ferro di cavallo cioè un mezzo ferro siccome potete vedere qua va beh lo teniamo per una mezza fortuna ecco grazie a tutti grazie a tutti